Immaginate di dover raccontare a Giorgio Vasari cosa è successo dopo la sua morte, dal 1574 ad oggi, per consentirgli di aggiornare le vite dei più eccellenti pittori, scultori e architettori. L'artuo compito è toccato al disegnatore Giuliano Piccinino, autore di una graphic novel nella quale incontra l'inquieto spirito dell'illustre Aretino. Il fumetto, all'interno del quale lo storico dell'arte antelitteram e protagonista, è stato presentato nella Sala del Trionfo della Virtù del Museo di Casa Vasari. Le mie difficoltà del personaggio che interpreto sono proprio quelle di raccontare cosa sia il racconto per immagini a una persona che nel Cinquecento aveva tutto un altro modo di vedere l'espressione artistica, letteraria, poetica eccetera. Poi si scopre che in effetti le cose non sono poi cambiate tantissimo, almeno per quanto riguarda chi racconta con le immagini. All'interno del fumetto spazio anche a Piero della Francesca e al ciclo di Affreschi la leggenda della Veracroce. L'ho disegnato perché mi sembrava un esempio calzante di come si possa raccontare per immagini ieri e come invece si racconta oggi. L'incontro è stato moderato dalla direttrice del museo, Rossella Sileno, alla quale è stata affidata la prefazione della graphic novel. Speriamo che essendo una graphic novel quindi diciamo una modalità di comunicazione adatta anche ai più giovani, ai ragazzi, questo avvicini ulteriormente i giovani a Vasari e al mondo dell'arte in generale perché poi in questa graphic novel diciamo che Vasari è il filo conduttore ma si parla comunque del fumetto in quanto non ha arte, non ha musa e in generale con dei rimandi continui anche all'arte classica, classica, moderna, contemporanea. Grazie. Grazie. Grazie.